Buongiorno, Federica mi chiede se un mioma può creare difficoltà ad avere una gravidanza. Dipende, dipende dalla grandezza del mioma, dipende dalla posizione del mioma. Un mioma che si trova sulla parte esterna dell'utero assolutamente non creerà difficoltà. Un fibroma che invece invade la cavità uterina potrà certamente creare difficoltà ad avere una gravidanza.